Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre, giù di Muscoio a Vita. Ero un po' reticente, non volevo fare troppo questo video perché quasi mi sentivo, lo sapete, io non sono uno che consuma così tanti integratori, però è dall'inizio che uso i prodotti di MyProtein, era un mio sogno essere sponsorizzato da loro, però di recente non sto veramente pubblicizzando né niente perché non voglio passare al lato oscuro che sarebbe quello che vi provo a vendere di tutto. Detto questo, sono veramente onorato di far parte del team MyProtein e quindi ovviamente proverò a includere di più i prodotti che utilizzo io. Quindi ci sono dei prodotti a cui non credo e non ve li mostrerò mai, tutti i prodotti che vi mostro sono i miei preferiti che utilizzo da 2, 3, 4 anni, che utilizzo da molto prima di essere sponsorizzato da MyProtein, che comunque vi consigliavo e vi consiglierei sempre anche se non ci facessi su nessuna commissione. Io spero che mi capiate, sono onorato di far parte di questo team, quindi ci sono dei prodotti che vi voglio mostrare. Detto questo, mi è arrivato appena adesso un pacco, quindi facciamo un unboxing. Ovviamente potete utilizzare il mio link e mi verrà una commissione, quindi questo è un metodo per supportare il canale. Sono pochi spiccioli, ma se vi posso aiutare e se volete, vedete dei prodotti che volete acquistare, lo fate tramite il mio link e mi aiuta personalmente. Io vi ringrazio tantissimo, tranquilli, non vi mostrerò mai dei prodotti a cui non credo, mai, lo giuro, e 2, non vi spammerò assolutamente. Se volete, sapete che c'è il link di sotto. Iniziamo l'unboxing. Unboxing my protein. Allora, per prima cosa nel pacco, uno shaker, ragazzi, non potete mai avere abbastanza shaker. L'ho visto con mia sorella, ne compri 1, 2, 3, spariscono sempre perché sono super utili, quello di bervi dentro i vostri shake pre-post-workout, ci potete mettere dentro di tutto. Quando viaggiate li riempite di protein powder, quindi uno shake ovviamente va sempre comodissimo. Grazie mille. Passiamo alla cosa seconda. Ecco, questo è un integratore che consiglio. Impact Whey Protein di My Protein. Questo è al gusto chocolate brownie. Questo sono ottimo. Questo è un chilo. I macros per un serving, che sono 25 grammi, che è uno scoop, sono 2 grammi di grassi, 2 grammi di carboidrati e 18 grammi di proteine. A me questi mi piace utilizzarli sia da soli, magari li metto con o dell'acqua o del latte in uno shake, oppure li posso aggiungere all'outmeal, li potete aggiungere alle varie crepes, se fate delle crepe proteiche, i pancake, eccetera, eccetera. Quindi questi sono ottimo. Multiuso, fonte rapida e economica di proteine, ovviamente molto consigliato. Poi, i miei snack preferiti di My Protein, sono i Bay Protein Cookie. Questi sono Rocky Road Flavor High in Protein. Ogni singolo cookie ha ben 40 grammi di proteine. Aspetta che lo apro. Apriti. Eccoci qua. Come detto, ogni cookie ha ben High in Protein, Rocky Road Flavor, 40 grammi di proteine a cookie. Questo è uno snack che mi porto sempre appresso e o me lo mangio così, è abbastanza mollo come vedete, o me lo mangio direttamente così oppure lo metto 30 secondi nel microonde e viene veramente buonissimo. Mmm, buonissimo. Mottiamo questo on the side intanto. Ovviamente ve ne sono presi due pacchi perché questi mi durano più o meno un mese, sono 24, ne mangio più o meno uno al giorno. Ottimo. Ultime cose. Oh, queste le ho aspettavo da un sacco di tempo. Due magliette performance di My Protein. Una in blu e una in grigio. Apriamola un po', vediamo un po' come ci sta. queste dovrebbero essere le maglie a maniche corte. Ah, mamma mia, bel colore. Io indosso tutte le taglie M sulle performance shirt, sono molto elastiche, mi piacciono un sacco, le potete praticamente portare in giro e mettere sia in palestra che fuori. Avevo tutti gli altri colori, vi faccio vedere ragazzi. In passato, li avete già visti in tutti i miei video, ho praticamente tutta la collezione che mi sono comprato. Questa è quella rosso salmone, maniche corte, grigia maniche corte, blu maniche corte e le avevo anche comprate maniche lunghe, proprio perché sono pazzesche maniche lunghe, ovviamente per il leg day, che non vogliamo far vedere appunto le nostre braccine quando vendiamo le gambe. Allora, come vedete, tutti i colori qua, e quindi volevo aggiungere alla collezione, con i colori che sono appena usciti, sono questo qua, che è un bellissimo blu scuro che mi provo. Probabilmente sto mettendo le immagini in questo momento. Sono alto, 180 centimetri, peso più o meno 76-77 chili, e indosso una TAI M e mi sta bella aderente. Quindi, sì, mi sa che questo è tutto, giusto? C'è più niente? C'è più niente. Unboxing fatto. E quindi sì, volevo semplicemente ringraziarvi di cuore. Se volete supportarmi, ovviamente potete utilizzare il link, ma per forza di cose non è assolutamente necessario. Gli integratori non sono assolutamente obbligatori, potete fare tutto tranquillamente con la dieta e l'allenamento. Quegli integratori danno il 5% in più. Per chi può farcela economicamente, vuole spendere, vuole fare tutto proprio al 100%, ottimizzare tutto, allora alcuni integratori possono aiutare. In realtà MyProtein, tutta la gamma di vestiti, sono pazzesche, me ne sono comprate tutte, anche prima di essere sponsorizzato, quindi per questo motivo ve ne mostro. Detto questo, se volete utilizzare il mio link, vi ringrazio veramente anticipatamente, ma se no, non ci sono assolutamente problemi. Voglio ringraziarvi se state ancora guardando questo video. Sono veramente... In questo giorno ho notato che ci sta un sacco di gente, anche su Instagram, che mi supporta, e niente, mi ha molto ricaricato le pile, sono super motivato, non vedo l'ora di portarvi tantissimi video, non vedo l'ora di finire questo anno accademico, che finisce il 31 maggio, quindi da giugno poi iniziano 4 mesi spaziali, voglio portarvi un sacco di contenuti, viaggi, cibo, allenamento, proviamo a fare un po' di collaborazioni, provo a portarvi sia dei video informativi, che dei video magari in palestra, anche quelli informativi, vi faccio vedere come fare l'esecuzione di alcuni movimenti, eccetera eccetera, voglio veramente far portare questo canale al prossimo livello, quindi ti apprezzo veramente tantissimo, lasciaci un like se ti è piaciuto questo video, qualsiasi cosa, su taglie, consigli, eccetera eccetera, fatemelo sapere nei commenti, vi porterò anche un video sugli integratori, completamente scientifico, però ovviamente sto collezionando tutta la ricerca scientifica, quindi per quello mi ci vorrà un pochino più di tempo, spero lo capiate, detto questo, vi ringrazio veramente tantissimo, iscrivetevi, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!